Questa si chiama cacciula. I maschi sposati sempre portavano cacciula così. Anche Sardegna. Invece ragazzi giovani che avevano la forza di fare il sesso doveva essere sempre... Allora la cacciula. Buongiorno a tutti. Siete oggi i nostri ospiti del château Vini di Comrade. Ci sono vini coupage, cioè tre tipi di vini insieme. Dopo che abbiamo scoperto questa bellezza, questa pietra naturale, abbiamo tolto questi scafale e abbiamo lasciato come museo e sala di degustazione. Il secondo vino si chiama Sauvignon Blanc e la vite europea. Questo è un rosè e un coupage di due tipi di vini, Cabernet Sauvignon e Merlot. Samar Kairoson, benvenuti. Abbiamo una bella tradizione incontrare i nostri cari amici o ospiti con pane e sale. In questa pietra incastrata si vede un pezzo di ossa. Ossa di questo cavallo, un cavallo antico, molto molto antico. Dieci milioni di anni fa abitavano su questa terra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti